Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico congestionato ci sono 6 chilometri di coda tra Aglio e Calenzano. In direzione Bologna per traffico intenso code a tratti tra il bivio per la complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti sulla direttissima tra Aglio e Badia. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla FIPILI possibili disagi per lavori tra l'Astra, Signia e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Sulla FIPILI Sulla FIPILI